Visite guidate, aperture straordinarie, ingressi gratuiti e urban game animeranno i luoghi più rappresentativi della città durante l'edizione 2024 delle Giornate Europee del Patrimonio a Matera. L'evento, previsto per sabato 28 e domenica 29 settembre, avrà come tema Patrimonio in Cammino, un invito a riflettere sui cammini e sulle connessioni che favoriscono scambi culturali e identità nazionale. In particolare, le consulte giovanili organizzeranno un urban game dedicato alla storia del conte tramontano. L'associazione Fede e Tradizione proporrà invece visite alla chiesa di Santa Maria de Armenis e esporrà cimeli in cartapesta dei carri trionfali di Maria Santissima della Bruna. Inoltre, l'associazione Cammino Materano e Proloco Matera proporranno passeggiate tematiche sull'abita trupestre e la gestione dell'acqua. Infine, l'Istituto Nazionale Castelli offrirà visite al Castello Tramontano con rievocazioni storiche e performance musicali. Stiamo prevedendo dei camminamenti, dei percorsi che dai borghi e dai quartieri storici possano arrivare nei punti nevralgici del nostro patrimonio materiale e immateriale. Per esempio, il Castello Tramontano, Santa Maria de Armenis, ci sarà un urban game nei Sassi. Per quanto riguarda il Castello Tramontano, stiamo prevedendo delle manifestazioni in costume, sempre per il 28 e 29 settembre. Ovviamente l'obiettivo è quello di tenere aperto, finalmente fruibile il castello e ricordo che c'è stata anche la manifestazione di interesse per creare una rete patrimoniale del Castello Tramontano. Sono arrivate già diverse proposte, quindi insieme a soggetti privati diventerà un attrattore culturale che si aggiunge a quelli della città.